Rebozzate! Il raggio è sul rosso e va verso il verde. E' stato proprio comodo là. Buoni! Occhio alle palle, occhio alla palla! Sta sempre preso in faccia! Ad, veloci! Evitate il VIL! Sì! Andate sul verde! Evitate il VIL, ragazzi! Occhio alle pallette! Evitatele! Occhio alle palle! Occhio alle palle! Occhio alle palle! Io voglio capire perché Asmodeus è presa la cazzo di palla in faccia là! Calcolando che non la dovevi prendere, che c'era gente! Occhio al raggio! Viene verso il rosso! C'è gente che sta prendendo delle pallette quando ne deve prendere! Arrivano due palle! Occhio alle palle! Via dal tank! Via dal tank! Via dal tank! Grazie extra! Cioè è incredibile! Continua a dire di non prendere cazzo alle pallette e continuare a piegare! Ok cazzo alle pallette! Occhio al raggio! Parte da vicino al rosso! Viene verso il blu! Quando si può io restiamo Yamada! Evitate le palle! Evitate le palle! Corrono eh! Ok evitate le palle! Ora le ripuliamo! Amaruk prende il boss! Ad! Prepozza! Tirate la prepozza! Occhio al pil! Andiamo sul verde! Come siete messi sul blu! Buttate prima giù quello lì! Vai prenditi questo qui! Fate prima lad! Occhio al raggio! Parte dal blu! Viene verso il verde! Viene verso il verde! Viene verso il verde! Finite lad! Dai! Poi rimettetevi in posizione dai! Rossi sul rosso! Blu sul blu! Occhio che dall'entrata verso il rosso! Verso il rosso! Perfetto! Rimettetevi sul colore dai! Dai sui colori ragazzi! Posizione! Posizione! Occhio extra! Occhio extra! Dove stai passando che stai prendendo la palla! valla! Sotto! Vado al blu vers'io e al rosso! vado al blu verso il rosso, occhio alle pallette boss e add, scusatemi, date gli add, usate il bl, occhio, occhio però ci passiamo sull'altro add, dai, evitate la palletta, evitate le pallette dai, sul veloce, sul verde come siete messi di là, sul blu, ok, perfetto, mi prendo il boss evitate il danno dalle palle di fuoco, finite l'add e poi rimettetevi in posizione palle in arrivo, rimettetevi in posizione, finito l'add occhio al raggio, parte dall'entrata verso il rosso evitate le palle, evitate le palle, evitate le palle stanno tutte all'esterno, stanno tutte all'esterno, evitatele ne arrivano due all'interno, due palle all'interno, evitatele rifullate, Amoruk vai lento a prendere le palle, fa rifullare prima occhio al raggio sul blu, viene verso il rosso arrivo una palla c'è solo una palla a giro, c'è solo una palla a giro ce ne sono due che si stanno creando vai Amoruk per i pulisci occhio alle palle, tutte esterne tutte esterne ragazzi sono le palle, evitatele, evitatele non prendete le palle, evitate tutte, non prendetele proprio le palle, non prendetele, non prendetele lasciatele perdere, fate gli add, fate gli add, Amoruk pure tu, lascia perdere le palle fate gli add i 3 add, morti i 3 add e morto il boss evitate le 3 palle quando usciamo dagli incroci ragazzi ci sono 3 palle a giro, 3 palle a giro 3 palle a giro, occhio sono esterne, sono 6 adesso ho 5 adesso le evito, le prendo io un po' basta, 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 Lino ti tirati su, Lino ti tirati su restate 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 un DPS restate un DPS, è uguale a chi? Lino, Yamada sharing Diablo, restate Diablo Finite l'add, finite l'add minate il boss, dai 130 milioni il boss evitate le palle, evitate tutto, non prendete più danni extra ragazzi fate solo boss occhio alle palle, occhio al raggio, occhio al raggio, viene verso il rosso 1% dai, buttamolo giù, cazzo, dai e buttamolo giù, cazzo, su e vaffanculo e vaffanculo ooo, cazzo ooo, cazzo ooo, lì ooo ooo ooo